Oggi nuova video recensione alla quale tengo particolarmente perché voglio parlarvi di un film italiano di fantascienza presente in questo momento nelle sale e che io ho avuto la possibilità e la fortuna di poter guardare grazie a Fandango e voglio tra l'altro ringraziare Giovanni Braiato ma anche la regista del film Luna Gualano proprio per avermi permesso di guardare questa pellicola, oggi voglio parlarvi infatti del film La Guerra del Tiburtino Terzo presente appunto nelle sale ovviamente ve ne parlerò senza fare nessun tipo di spoiler proprio perché non voglio in alcun modo rovinarvi la visione del film perché ve lo dico fin da subito a me il film è piaciuto parecchio ed è una pellicola alla quale mi sono approcciato con tanta curiosità con tanta speranza anche di poter trovare qualcosa di gradevole anche perché se mi seguite da un po' di tempo sapete benissimo quello che è il mio appoggio nei confronti del cinema italiano soprattutto poi quando si parla di cinema di genere e in questo caso stiamo parlando di un film di fantascienza ora non è che in Italia di film di fantascienza se ne facciano a decine quindi nel momento in cui io mi ritrovo di fronte a delle opportunità del genere chiaramente mi approccio appunto con tutti i buoni propositi con la speranza appunto di trovare qualcosa di interessante ed è il caso appunto della guerra del Tiburtino Terzo facciamo un breve cenno di trama come sempre senza spoiler per capire di che cosa stiamo parlando il film infatti racconta la storia di un gruppo di persone che vivono in un quartiere di Roma periferico abbastanza fatiscente appunto il Tiburtino Terzo è un quartiere che viene coinvolto da un evento molto particolare che si vede fin dall'inizio fin dai primi secondi del film perché perché arriva una sorta di piccolo meteorite non saprei come definirlo diversamente una sorta di pietra dalle caratteristiche molto particolari che viene raccolta da uno dei personaggi del film staremo a vedere fra poco chi e si capisce in realtà fin da subito che in realtà non è una semplice pietra ma è una sorta appunto di meteorite contenente degli diciamo delle creature particolari dei vermi dalle caratteristiche particolari che infatti non fanno altro che intrufolarsi all'interno del corpo delle persone spesso attraverso le narici andandole a possedere questo perché perché vogliono praticamente portare avanti appunto una sorta di invasione aliena della innanzitutto del quartiere poi della città di Roma con l'obiettivo ovviamente di conquistare l'intero pianeta soggiogando quindi l'intera umanità e quindi replicandosi di volta in volta diciamo che il come dire il film la trama generale del film è questo poi ovviamente si ha il coinvolgimento di questo quartiere in maniera centrale che viene quasi caratterizzato da barricate che impediscono alle persone di entrare e di uscire tanto che infatti è proprio all'interno del Tiburtino Terzo che cominciano a diffondersi sempre di più questi vermiciattoli e comincia a diffondersi sempre di più questa sorta di epidemia aliena mi fermo qua non voglio dirvi altro perché altrimenti rischerei involontariamente di fare degli spoiler ma sappiate che poi da un certo momento in poi cominceranno a coesistere sia creature diciamo aliene che però prendono possesso del corpo delle persone quindi hanno l'aspetto degli umani ma non sono più umani e dall'altra parte poi gli esseri umani veri e propri con alcuni personaggi che spiccano diciamo rispetto ad altri come vi ho detto mi sono approcciato con curiosità ho raccolto l'invito di Fandango proprio per poter visionare questo film e ne sono rimasto più che soddisfatto perché è una pellicola che secondo me non fa altro che andare a dimostrare tutto ciò che ho avuto modo di dire anche diverse volte nel corso dei degli anni negli ultimi anni e cioè il fatto che anche in italia quando ci mettiamo di impegno quando abbiamo la possibilità e quando viene data anche l'opportunità ai registi agli sceneggiatori anche agli attori fondamentalmente di rimanere coinvolti e di essere coinvolti in dei progetti diversi dal solito tra mille virgolette facciamo vedere che ce la caviamo e ce la sappiamo cavare davvero alla grande la guerra del Tiburtino Terzo è un film che riesce tra l'altro a coniugare come dicevo poc'anzi due aspetti che sono stati e che sono ancora oggi secondo me tipici del cinema italiano da una parte il cinema diciamo improntato verso la commedia la commedia italiana ancora oggi ovviamente rappresenta probabilmente la tipologia di film maggiormente diffuso nel nostro paese chiaramente poi con dei livelli che possono essere variabili a seconda della pellicola presa in considerazione e dall'altra parte come detto il cinema di genere la fantascienza cinema di genere che come ho sempre detto ci ha visti grandi protagonisti nel corso degli scorsi decenni tra gli anni 60 gli anni 70 anche negli anni 80 e purtroppo poi con il passare dei decenni con il passare degli anni purtroppo abbiamo un po' abbandonato questa questa questo trend si direbbe oggi abbiamo abbandonato un po' questa strada che ci aveva visto ripeto grandissimi protagonisti in giro per il mondo bisogna dirlo per poi appoggiarci principalmente su quei due grandi macro generi rappresentati dal dramma e dalla commedia che ancora oggi chiaramente esistono però ecco quando io mi ritrovo di fronte ad un film come la guerra del tiburtino terzo mi luccicano gli occhi perché è ovvio non bisogna aspettarsi dei grandissimi capolavori da questi film e credo sia anche sbagliato approcciarsi a queste pellicole con l'idea di trovare il film del secolo ovviamente no ma non credo neanche che fosse nelle intenzioni né dei produttori né degli sceneggiatori del regista della regista in questo caso realizzare l'opera del millennio ma è banale anche doverlo dire doverlo ribadire lo facciamo lo diciamo perché questo film è un film che in realtà però riesce ad essere davvero molto interessante per tanti aspetti innanzitutto ripeto è un film che prende la fantascienza e la riesce a trattare in maniera forse non originalissima ma la riesce a trattare in maniera divertente e non è così scontato non è così scontato che si riescano a trattare dei temi come per esempio l'invasione aliena che è comunque un argomento una tematica trite ritrite che abbiamo visto e rivisto non tanto in italia ma soprattutto in giro per il mondo ma riescono a trattarla in maniera tale da renderla magari non originale ma comunque avvincente convincente e divertente tra l'altro perché la guerra del tiburtino terzo è un film comunque improntato verso la commedia ma anche qui per quanto in italia ormai di commedie se ne sfornino davvero a centinaia e centinaia ogni anno è chiaro che anche in quel caso il livello che si raggiunge non sempre risulta essere soddisfacente anzi lasciatemelo dire quasi mai risulta essere soddisfacente eppure in questo caso la parte di commedia la parte divertente della storia riesce ad emergere in maniera anche abbastanza frequente durante il film grazie anche a dei personaggi che funzionano e il film riesce anche a divertire oltre che ad intrattenere oltre che a funzionare anche da un punto di vista narrativo anche perché tra l'altro la cosa interessante del film la guerra del tiburtino terzo è rappresentata anche diciamo da quella che può essere considerata da quelli che possono essere considerati sotto testi cioè l'interpretazione che si può dare di questo film è un film di fantascienza chiaramente quindi lo si può tranquillamente guardare sotto questo punto di vista quindi come semplice film di fantascienza e già funziona sotto quel punto di vista comunque però in realtà è un film che nasconde qualcos'altro è un film che in maniera tra l'altro non troppo eccessiva in maniera non sfacciata senza eccessivi didascalismi vuole anche raccontare qualcosa di diverso vuole raccontare quello che è purtroppo il degrado l'abbandono anche delle periferie cittadine in questo caso appunto rappresentate dalla quartiere del tiburtino terzo a roma vuole raccontare anche quella che purtroppo è purtroppo per fortuna poi dipende dai punti di vista quella che è anche la diffusione della tecnologia anche la dipendenza che molti di noi abbiamo nei confronti della tecnologia ed infatti c'è una un personaggio che è una sorta di influencer che in qualche modo vive in funzione delle views in funzione dei like in funzione dei followers e quindi anche in questo senso il film vuole dare una piccola sferzata a questi argomenti ripeto contestualizzandoli comunque in quello che è il appunto la storia fantascientifica che vuole raccontare ed è un film poi che vuole anche mostrare quelle che sono le dinamiche interpersonali le dinamiche tra amici tra familiari perché tra l'altro il personaggio prince uno dei personaggi principali è un padre di famiglia tra l'altro interpretato da paolo calabresi un attore che io apprezzo praticamente da sempre in ogni sua apparizione un attore che riesce sempre a regalare dei personaggi in grado come sempre anche qui di sia di divertire dal per alcuni aspetti ma anche di rappresentare un modo di essere italiani che non è mai banale mi viene da dire e in questo film ripeto la il tutto viene come dire ingigantito anche dal fatto che da un certo momento in poi il personaggio del padre in realtà non è più proprio il padre non voglio dico non voglio spoilerarvi altro però bene o male potete facilmente capire a che cosa mi stia riferendo proprio nell'ottica delle invasioni aliene abbiamo poi il figlio pinna questo ragazzo che tra l'altro è un come dire una figura che mi ha ricordato parecchio anche quelle che sono quelli che sono i personaggi dei fumetti di zero calcare ma anche di quelle che sono le serie animate ormai presenti anche su netflix abbiamo la presenza anche della madre interpretata da paolo a minaccioni tra l'altro tutto questo fa capire anche la presenza di un cast anche nutrito di più che buoni attori tra l'altro con alcuni cameo che mi hanno anche fatto spaccare da ridere c'è carolina crescentini per esempio c'è francesco pannofino tra gli altri in un personaggio che compare probabilmente per una trentina di secondi in totale nel complesso di tutto il film ma davvero mi ha fatto ridere come pochi altri c'è un altro personaggio tra l'altro che particolarmente stravagante particolarmente eccentrico che ha a che fare con le canzoni di celentano quindi ve lo lascio scoprire durante la visione del film anche lì non diciamo non è possibile in qualche modo trattenere la risata proprio per quello che succede quindi tutto questo a dimostrazione davvero di quello che è il buon lavoro che è stato svolto in questo film appunto cercando di coniugare anche generi differenti riuscendoci a pieno è un film anche che tra l'altro con quella che è appunto la scusa tra virgolette dell'invasione aliena in determinati momenti vuole anche cercare di porre l'attenzione su quella che può essere anche la tematica dell'immigrazione lo fa capire in alcuni momenti quindi davvero è un film che seppur non particolarmente originale per quella che potrebbe essere di prima chito la la trama mettiamola così la storia è un film che non vuole ergersi ovviamente a capolavoro indimenticabile della storia del cinema ma è una pellicola comunque divertente interessante che riesce anche tra l'altro ad avvalersi di effetti speciali che non mi hanno fatto storcere il naso cosa che invece spesso succede anche nell'ambito del cinema americano statunitense internazionale quindi il rischio si poteva correre anche qui ma tutto sommato in realtà non è successo niente di tutto ciò quindi è una pellicola che riesce a dare un'ulteriore conferma di quello che è l'ottimo stato di forma del cinema italiano lo dico lo ripeto io sono pronto anche ad attirarmi le critiche di tutti coloro che continuano a dire il cinema italiano è morto il cinema italiano non ha più niente da dire va bene nessuno può in qualche modo cambiare l'opinione delle altre persone con la forza quindi non sono io sicuramente a voler cambiare l'idea di coloro che pensano in questo modo però per me il cinema italiano è tutto fuorché morto e lo ribadisco e sono pronto a ribadirlo più e più volte perché è ormai da circa dieci anni che in realtà si portano avanti tutta una serie di progetti che dimostrano il contrario poi che si possa dire beh non siamo ai livelli dei decenni passati non siamo ai livelli degli anni settanta degli anni ottanta beh questo è ovvio mi sembra anche come dire superfluo doverlo dire un po come poco fa però da qualche parte bisogna pur cominciare da qualche parte bisogna anche pur continuare e quando ci sono dei progetti come la guerra del tiburtino terzo con dei registi dei giovani cineasti dei giovani sceneggiatori e quindi anche nel momento in cui determinati produttori decidono di investire il denaro in qualcosa diverso dal solito in realtà bisognerebbe comunque incoraggiare questi progetti poi che il risultato finale non sia sempre soddisfacente beh questo credo sia anche nella normalità delle cose ma penso che con la guerra del tiburtino terzo in realtà questo rischio non sia non si sia avverato proprio perché il film è in grado di secondo me regalare delle più che buone sensazioni e tra l'altro come dire un film di una durata secondo me perfetta perché dura poco meno di un'ora e mezza quindi non si dilunga non ripeto non scade in eccessive lungaggini in eccessive banalità non ci sono di dascalismi particolari in grado di rendere anche snervante stancante la visione del film a un finale tra l'altro anche lì particolarmente sia divertente ma anche dolce amaro per quello che vuole raccontare e quindi secondo me è davvero un film che conferma davvero quello che di buono sappiamo fare qui in italia e che dovremmo continuare a fare e dovremmo ripeto anche incoraggiare sia i produttori nel far sì che loro possano mettere anche i fondi per realizzare questi film e quindi anche tutti i cineasti che siano ripeto registi attori sceneggiatori produttori tutti i direttori della fotografia perché tra l'altro in questo film funziona anche il comparto tecnico non volevo tralasciarlo ad una più che buona regia di luna gualano si affianca anche una più che buona fotografia per esempio con questi scorci che appunto di questa periferia romana particolarmente degradata ma che contrastano in alcuni momenti anche con dei colori accesi soprattutto nel momento in cui si ha il coinvolgimento degli alieni è una più che buona colonna sonora e davvero il film per me funziona ripeto non aspettatevi il capolavoro del secolo non aspettatevi il film migliore dell'anno ma non credo sia questo davvero l'obiettivo di quello che appunto il film è la guerra del Tiburtino terzo è un film che però io manterrò nella mia memoria in maniera più che gradevole e spero davvero che ci sia la possibilità di poterlo avere anche in futuro in un video chissà in dvd blu ray staremo a vedere spero davvero di sì perché sarà un film che avrò il piacere anche di poter rivedere diverse volte appunto nelle nei prossimi anni quindi la guerra del Tiburtino terzo questa era la mia opinione per quanto riguarda questo film se avete avuto la possibilità di guardarlo fatemi chiaramente sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti io ringrazio nuovamente fandango ringrazio nuovamente anche luna gualano per avermi permesso di guardare il suo film io come sempre vi ringrazio anche per il tempo che decidete di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale fondamentale davvero se volete aiutarmi a far crescere ancora di più il canale come state già meravigliosamente facendo iscrivetevi attivate la campanella vi ricordo in descrizione trovate innanzitutto un link amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto trovate i link della mia pagina facebook della mia pagina instagram del mio canale telegram vi aspetto anche lì vi ricordo anche che potete sostenere questo video lasciando un like commentandolo come vi ho detto condividendolo ovunque vogliate e poi io vi ringrazio davvero nuovamente dandovi l'appuntamento al prossimo video ad una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale viva il cinema italiano sempre e comunque buona giornata a tutti ci vediamo presto